capitolo 11 l'indomani charles fece tornare a casa la bambina che chiese subito della mamma le risposero che era andata via e le avrebbe portato al ritorno dei giocattoli bert ne riparlò molto volte poi col passare del tempo non ci penso più l'allegria di questa bambina straziava bovary il quale era anche costretto a subire le insopportabili consolazioni del farmacista le preoccupazioni finanziarie ben presto ricominciarono il signor l'heure incitò di nuovo l'amico ven sar e charles si impegnò per somme esorbitanti mai e poi mai infatti si sarebbe lasciato convincere a vendere una minima parte dei mobili che erano appartenuti a lei la madre ne fu esasperata charles si indignò più di lei non era cambiato affatto la signora bovary madre se ne andò allora tutti cominciarono ad approfittarsene la signorina l'empereur reclamò sei mesi di lezioni benché emma non ne avesse presa una sola nonostante la fattura quietanzata che aveva mostrato a bovary era un accordo fra le due donne il bibliotecario reclamò tre anni di abbonamenti mamma rollè l'importo della francatura di una ventina di lettere e siccome charles domandava spiegazioni ebbe la delicatezza di rispondere ah non ne so nulla era per i suoi affari a ogni conto che pagava charles credeva di avere finito invece ne arrivavano sempre altri di continuo decise di esigere gli arretrati di vecchie visite gli vennero mostrate le lettere di sua moglie fu costretto a fare le proprie scuse felicité portava adesso gli abiti della padrona non tutti perché charles ne aveva messi da parte alcuni e andava a guardarseli nello spogliatoio dove si tratteneva a lungo la domestica aveva quasi le stesse misure della padrona e spesso charles vedendola di spalle si abbandonava all'illusione e ripeteva o rimani così non muoverti ma alla pentecoste felicitesse la svignoda yonville rapita da theodore rubando tutto quello che rimaneva del guardaroba di emma verso quest'epoca la vedova dupuis ebbe l'onore di partecipare a bovary il matrimonio di suo figlio notaio a ivto con la signorina leocca di leboeuf di bondville charles inviandole le felicitazioni scrisse questa frase chissà come ne sarebbe stata felice mia moglie un giorno mentre girava per la casa senza scopo era salito fino in soffitta quando sentì sotto la pantofola una pallottola di carta sottile la spiegò e lesse coraggio emma deve avere coraggio non voglio essere la rovina della sua esistenza si trattava della lettera di rodolphe caduta a terra fra le casse rimasta la il vento penetrando dall'abbaino l'aveva spinta verso la porta charles rimase immobile a bocca aperta nello stesso punto in cui un tempo ancora più pallida di lui emma disperata aveva pensato di uccidersi scoprì infine una piccola r in fondo alla seconda pagina cosa significava chi era gli tornarono alla memoria le assiduità di rodolphe l'improvvisa sparizione di lui e la sua aria imbarazzata quando lo aveva incontrato due o tre volte ma il tono rispettoso della lettera lo trasse in inganno forse si sono amati platonicamente si disse d'altronde charles non era tipo d'andare a fondo delle cose indietreggiava davanti alle prove e la sua incredula gelosia si perse nell'immensità del dolore tutti pensava dovevano aver avuto dell'adorazione per lei di certo tutti gli uomini l'avevano desiderata gli sembrò ancora più bella e gli nacque dentro un desiderio incessante furioso che rendeva più bruciante la sua disperazione e che non aveva limiti perché era ormai irrealizzabile per farle piacere come se vivesse ancora adottò i suoi gusti le sue idee si comperò scarpe di vernice e prese l'abitudine di usare cravate bianche adoperava cosmetici per i baffi firmava cambiali così come lei aveva fatto anche dall'aldilà riusciva a corromperlo fu costretto a vendere l'argenteria un pezzo per volta poi vendette i mobili del salotto tutte le stanze si svuotavano ma la camera la camera di lei era rimasta quella di sempre dopo cena charles vi saliva spingeva davanti al fuoco la tavola rotonda e avvicinava essa la poltrona di emma poi sedeva di fronte una candela ardeva in un candeliere dorato bert vicino a lui colorava delle illustrazioni il pover uomo soffriva vedendo la figlia così mal vestita con gli stivaletti senza stringhe e le blusette strappate sotto le ascelle fino ai fianchi perché la domestica non se ne curava ma la bimba era così dolce così carina e la testolina si chinava con tanta grazia lasciando ricadere sulle gote rosate i bei capelli biondi che lui si sentiva invadere da un senso di piacere senza fine un piacere colmo di amarezza come quel vino mal riuscito nel quale si sente il sapore della resina le aggiustava i giocattoli le fabbricava burattini di cartone ricuciva la pancina lacerata delle bambole ma se gli capitava sotto gli occhi l'astuccio da lavoro o un nastro lasciato in giro o soltanto uno spillo rimasto in una fessura della tavola cominciava a sognare e assumeva un'aria così triste che anche la bimba diveniva triste come lui nessuno adesso veniva a trovarli la sera perché giustaine se n'era andato a rouen ove lavorava come commesso in una drogheria e i figli del farmacista frequentavano sempre meno la piccola bert il signor homè data la differente condizione sociale non ci teneva più a continuare l'amicizia il cieco che non era guarito affatto con la sua pomata era tornato sulla salita del bois guillem là raccontava ai viaggiatori l'inutile tentativo del farmacista e si era giunti al punto che homè quando andava in città si nascondeva dietro le tendine della rondine per evitare di incontrarlo lo detestava e nell'interesse della propria reputazione voleva sbarazzarsene a tutti i costi concentrò sul capo del disgraziato il tiro di una batteria invisibile che dimostrava la profondità della sua intelligenza e la scelleratezza della sua vanità durante sei mesi consecutivi fu possibile leggere sul faro di rouen tra filetti così concepiti tutte le persone che si recano nelle fertili contrade della picardia avranno certo notato sulla salita del bois guillem un miserabile affetto da un'orribile piaga al viso questo individuo importuna perseguita esige una vera tassa dai viaggiatori siamo forse ancora all'epoca mostruosa del medioevo quando era permesso ai viaggiatori di ostentare sulle pubbliche piazze la lebra la scrofolosi da cui erano stati contagiati durante le crociate oppure a dispetto di tutte le leggi sul vagabondaggio i dintorni delle grandi città continuano essere infestati da bande di accattoni se ne vedono circolare isolati e forse non sono i meno pericolosi a cosa pensano i nostri magistrati poi homè inventava aneddoti ieri sulla salita del bois guillem un cavallo ombroso e seguiva il racconto di un incidente causato dalla presenza del cieco e tanto fece che finirono per metterlo in carcere ma lo rilasciarono il cieco ricominciò e homè non fu da meno era una vera lotta e il farmacista ne uscì vittorioso perché condannarono il suo nemico alla reclusione perpetua in un ospizio questo successo lo rese ardito da quel momento non vi furono più nel circondario un cane ucciso una donna percossa un fienile bruciato senza che egli ne facesse partecipe il pubblico sempre guidato dall'amore per il progresso e dall'odio contro i preti stabiliva confronti fra le scuole elementari pubbliche i frati ignorantini a scapito di questi ultimi ricordava la notte di san bartolomeo a proposito di una donazione di cento franchi fatta alla chiesa denunciava abusi lanciava frizzi era il suo motto homè non tace stava diventando pericoloso nonostante ciò soffocava negli angusti limiti del giornalismo e ben presto volle cimentarsi con un libro un'opera importante scrisse una statistica generale della regione di yonville corredata di osservazioni climatologiche e la statistica lo spinse verso la filosofia si occupò di questioni di vasta portata problemi sociali moralizzazione delle classi povere piscicoltura gomma ferrovie eccetera finì per vergognarsi di essere un borghese ostentò atteggiamenti da artista si mise a fumare comperò due eleganti statuette pompadour per ornare il salotto non abbandonò affatto la farmacia al contrario si teneva al corrente delle scoperte seguì il movimento a favore del cioccolato fu il primo a far arrivare nella regione della senna inferiore la coca e la re valenzia si lasciò prendere dall'entusiasmo per le catene idroelettriche pulver marker ne portava una lui stesso e la sera quando si toglieva il panciotto di lana la signora romè rimaneva abbagliata davanti alla spirale d'oro sotto la quale spariva il marito e sentiva raddoppiare i suoi ardori per quest'uomo più incatenato di un'uscita e splendido come un mago ebbe idee felici per la tomba di emma propose dapprima una colonna tronca con un drappeggio poi una piramide in seguito un tempio di vesta una specie di rotonda oppure un ammasso di rovine e in tutti i progetti homè non tralasciava mai il salice piangente che considerava il simbolo obbligato della tristezza charles e lui fecero un viaggio insieme a rouen per vedere delle tombe da un impresario di pompe funebri accompagnati da un pittore un certo vofrillard amico di bridoux il quale per tutto il tempo non fece altro che dire spiritosaggini alla fine dopo aver esaminato un centinaio di disegni e dopo aver chiesto un preventivo e aver fatto un secondo viaggio a rouen charles si decise per un mausoleo con i due lati principali adorni dalla rappresentazione di un genio recante una fiaccola spenta per quanto riguardava l'iscrizione homè non trovava niente di più bello di staviator e si fermava lì ci si rompeva la testa ripeteva continuamente staviator finalmente scoprì il seguito amabile coniugem calcas che venne accettato una cosa strana era che bovary pur pensando a emma di continuo la dimenticava e si disperava accorgendosi che quell'immagine gli sfuggiva dalla memoria a dispetto di tutti gli sforzi per trattenerla la sognava ogni notte era sempre lo stesso sogno si avvicinava a lei ma quando stava per stringerla fra le braccia ella si dissolveva in putredine lo si vide per una settimana entrare ogni sera in chiesa don bursien stesso gli fece visita due o tre volte e poi lo abbandonò d'altronde quel bravo uomo del curato si stava lasciando andare all'intolleranza al fanatismo diceva romè lanciava fulmini contro lo spirito del secolo e non mancava ogni 15 giorni durante la predica di raccontare l'agonia di voltaire il quale era morto come tutti sanno divorando i propri escrementi nonostante facesse ogni economia bovary era ben lontano dall'estinguere i suoi antichi debiti l'heure rifiutò di rinnovare le cambiali il sequestro divenne imminente allora egli ricorse alla madre che gli consentì di mettere un'ipoteca sui suoi beni ma si sfogò con un'infinità di recriminazioni contro emma e chiese in cambio del suo sacrificio uno schalle sfuggito alla rapina di felicitè charles glielo rifiutò e ne nacque un grave disaccordo fu la madre a tentare i primi approcci per una riappacificazione proponendogli di affidare a lei la piccola cosa che lo avrebbe sollevato almeno dalle preoccupazioni per la casa charles acconsentì ma al momento della partenza il coraggio lo abbandonò e la rottura divenne allora definitiva completa a mano a mano che tutti gli affetti lo abbandonavano cresceva sempre più il suo attaccamento per la figlia non era tranquillo però per la sua salute perché la bambina tossiva e a volte aveva chiazze rosse sugli zigomi di fronte a lui la famiglia del farmacista prosperava fiorente e ilare e sembrava che tutto al mondo contribuisse ad aumentarne la soddisfazione napoleone aiutava il padre nel laboratorio a taligli ricamava una papalina irma tagliava rondelle di carta per coprire le marmellate e franklin recitava tutto d'un fiato la tavola pitagorica lo speziale era il più felice dei padri il più fortunato degli uomini errore un'ambizione sorda loro deva homè anelava la legion d'onore i titoli non gli mancavano primo si era fatto notare al tempo del colera per la sua dedizione senza limiti secondo aveva pubblicato e a proprie spese diverse opere di utilità pubblica quali e qui ricordava l'opuscolo intitolato la lavorazione e gli effetti del sidro più alcune osservazioni sull'affidio della lana inviate all'accademia il volume statistico e perfino la tesi in farmacia senza contare che era membro di molte società scientifiche lo era poi di una sola infine esclamava girando sui talloni non fosse altro che per essermi comportato coraggiosamente durante gli incendi in quel periodo homè si sentiva portato verso il potere rendeva in segreto preziosi servigi al signor prefetto durante le elezioni si vendeva insomma si prostituiva inviò perfino una petizione al sovrano nella quale lo supplicava di rendergli giustizia lo chiamava il nostro ottimo re e lo paragonava a enrico quarto ogni mattina lo speziale si precipitava a leggere il quotidiano con la speranza di scorgervi la propria nomina non c'era mai alla fine non riuscendo più a trattenersi fece disegnare con il loietto in giardino la stella d'onore con piccoli ciuffi d'erba che partivano dalla sommità per imitare il nastro vi passeggiava intorno a braccia concerte meditando sull'inettitudine del governo e sull'ingratitudine umana per rispetto o per una specie di sensualità che gli faceva rinviare le indagini charles non aveva ancora aperto lo scomparto segreto dello scrittoio di palissandro di cui emma era stata solita servirsi un giorno però sedette davanti a esso girò la chiave e spinse la molla vi si trovavano tutte le lettere di leon stavolta non rimanevano possibilità di dubbio le diverò fino all'ultima frugò in tutti gli angoli in tutti i mobili in tutti i cassetti dietro i muri singhiozzando urlando fuori di sé impazzito scoprì una scatola la sfondò con un calcio il ritratto di rodolphe fu la prima cosa che vide in mezzo ai biglietti d'amore in disordine la gente rimase assai stupita dall'abbattimento di bovary non usciva più non riceveva nessuno rifiutava perfino di andare a visitare gli ammalati tutti si convinsero allora che si chiudeva in casa per bere a volte un curioso allungava il collo sopra la siepe del giardino e scorgeva con stupore quell'uomo dalla barba lunga coperto da abiti sordidi dallo sguardo feroce che camminava piangendo forte la sera durante l'estate charles prendeva con sé la bambina e la conduceva al cimitero tornavano a notte fatta quando non vi era altra luce sulla piazza se non quella dell'abbaino di binet ma la volutà che riusciva a dargli il suo dolore non era completa perché non aveva nessuno intorno a sé con cui condividerlo andava a trovare mamma le francois per poter parlare di lei ma l'albergatrice lo ascoltava con un orecchio solo perché come lui aveva i suoi dispiaceri il signor l'heure stava infatti per inaugurare le nuove diligenze le favorite del commercio e hiver apprezzatissimo per la meticolosità con cui sbrigava le commissioni esigeva un aumento di salario o minacciava di passare alla concorrenza un giorno charles andò al mercato di argueil per vendere il cavallo ultima risorsa ormai e incontrò rodolphe impallidirono scorgendosi rodolphe che per le condoglianze aveva mandato soltanto un biglietto da visita balbettò dapprima qualche scusa poi si fece audace e spinse la propria sicumera faceva molto caldo si era nel mese d'agosto fino a invitarlo a bere una bottiglia di birra all'osteria appoggiato sui gomiti biascicava il sigaro mentre parlava e charles si perdeva in fantasticherie davanti a quel viso che emma aveva tanto amato gli sembrava di rivedere qualcosa di lei era una cosa stupefacente avrebbe voluto essere quell'uomo l'altro continuava a parlare di culture di bestiame di concimi colmando con frasi banali tutti i vuoti nei quali sarebbe potuta scivolare un'allusione charles non l'ascoltava rodolphe se n'era accorto e seguiva nelle diverse espressioni del viso di lui il susseguirsi dei ricordi a poco a poco charles arrossì le narici cominciarono a vibrargli le labbra fremettero vi fu un istante in cui pieno di sorda furia fissò negli occhi rodolphe il quale si interruppe quasi spaventato ma ben presto la consueta funebre stanchezza gli riapparve sul viso non nutro alcun rancore nei suoi riguardi disse rodolphe era mutolito e charles il capo fra le mani continuò con voce spenta e nel tono rassegnato che è proprio dei dolori più profondi no non ho più rancore e aggiunse una grande massima la sola che avesse mai pronunciato è tutta colpa del destino rodolphe che aveva aiutato quel destino lo trovò molto ingenuo per un uomo nella sua situazione addirittura comico e un po vigliacco l'indomani charles andò a sedersi sulla panca sotto la pergola fra i rami intrecciati trapelava la luce le foglie della vite disegnavano ombre sulla sabbia il gessolmino spandeva il suo profumo il cielo era azzurro le cantaridi ronzavano intorno ai gigli fioriti e charles si sentiva soffocare come un adolescente per via di quegli indefinibili sentimenti amorosi che gli gonfiavano il cuore afflitto alle sette la piccola bert che non l'aveva visto per tutto il giorno venne a cercarlo per la cena aveva la testa arrovesciata contro il muro gli occhi chiusi la bocca aperta e teneva fra le mani una lunga ciocca di capelli neri papà su vieni disse la bambina e convinta che stesse scherzando lo spinse ad agio charles cadde a terra era morto 36 ore dopo su richiesta dello speziale accorse il signor canivè gli fece l'autopsia ma non trovò nulla quando tutto fu venduto restarono ancora 12 franchi e 75 centesimi che servirono a pagare il viaggio della signorina bovary fino a casa della nonna la buona donna morì entro l'anno ed essendo papà ruo paralizzato si incaricò di allevare la bimba una zia costei era povera e mandò bert a guadagnarsi la vita in una filatura di cotone dopo la morte di bovary tre medici si sono susseguiti a yonville senza riuscire ad affermarsi e questo grazie al signor comè che è riuscito a sbaragliarli tutti si sta facendo una clientela vastissima l'autorità lo favorisce e l'opinione pubblica lo protegge gli hanno appena conferito la legion d'onore fine dell'opera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti